L'Olimpia raggiunge i play-off di Eurolega per la prima volta con la nuova formula. Fa il suo dovere vincendo la Pioneer contro la Stella Rossa, attende poi le buone notizie da Madrid dove l'Anadolu Efes batte il Real e regala ai Biancorossi la qualificazione. L'Armani non si fa intimorire da particolari calcoli e viaggia spedita più 10 alla fine del primo tempo, più 25 è il massimo vantaggio toccato nella terza frazione e l'ex Kevin Panther protagonista della gara dalla lunga distanza. E così dopo 7 anni si respirerà nuovamente l'area di play-off. Giovedì l'Olimpia scenderà a Dohaka contro le Panathinaikos per poi chiudere la stagione in casa il 9 aprile contro l'Anadolu Efes Istanbul. Un'unplen garantirebbe la terza posizione in classifica. Giovedì! 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 Giovedì!